Era il dubbio che mi aspettavo, ho trovato di nuovo una squadra a cui piace giocare pallone, che si vede che ha dei dettami ben chiari, è una squadra che butta pochissimo la palla via, quindi cerca spesso il dialogo e è una squadra che ti può creare sempre grossi pericoli. L'abbiamo visto anche oggi, è stata una partita equilibrata e comunque loro ogni volta che ripartivano davano l'idea di poter essere pericolosi. I miei ragazzi sono stati molto bravi e siamo riusciti a portare a casa questa vittoria che per noi è pesantissima, però c'è da fare i complimenti assolutamente al dubbio sia per la prestazione che per il campionato. I gol in inizio secondo tempo ci ha sbloccato la partita e poi noi siamo una squadra che soffre dal primo all'ultimo minuto ogni centimetro, l'uno per l'altro, quindi non a caso penso sia la dodicesima o tredicesima partita che non subiamo gol, mi sembra di ricordare che finiamo a zero gol subiti, quindi un motivo ci sarà e l'abbiamo portata importante dai tre punti, poi non si ricorda nessuno a fine campionato se il dubbio ha giocato meglio l'ultima mezz'ora.